vada vada parta posso dire fantastico mi stavo un po annoiando sinceramente poi arriva la fine si è ripreso dico solo questo si è ripreso vai finalmente stai skate è ritornato in sé troppa pace non mi piace ma a me piace la pace le palle mi piace essere ritornati i casini tutto quanto parte dal fatto che loro non devono parlare con Mueca se parlano con Mueca sono fregati perché sicuramente sarà stata lei a dire i rounder del fatto di Cagario che la stavano a cercare e quindi erano loro che la stavano a cercare già il CERN perché sempre rovina tutto però secondo me stavolta non muore nessuno no perché secondo me è notato a me mi sembra che questo avvenimento è collegato a quello del flashback che ci ha avuto penso alla cosa che abbiamo visto nell'episodio 4 collegato a quello secondo me lui dice noi sono i miei amici lui è giovane lì quindi vuol dire che forse forse iniziamo a terza guerra mondiale subito subito è sparato e tutto probabilmente mi sembra molto recente quella cosa che ci ha avuto lui quella specie di previsione del futuro diciamo tutto collegato secondo me però a me è piaciuta in generale la tavola carina è stata bella per il resto sì però per carità la pagina non è male però sai con me mi stavo dicendo quasi per tutto in mani ma sarà un po' così ma alla fine arriva questo avvenimento è guai col cavolo e poi non c'hanno neanche salti temporali e microonde telefonici c'hanno niente quindi o se muore qualcuno muore qualcuno basta cioè c'è poco da fare perché c'è una macchina nel tempo però sta sul palazzo della radio ora penso che vengono sì ma io penso che qualcosa faranno su cioè voglio dire Brown tu che hai letto comunque il coso certo Brown mi pare un po' diverso cioè non lo so se è tanto diverso proprio cioè dovrebbe servire anche questo in teoria però c'è in questo caso cioè non mi sembra una cosa prevista che anche Nye stava lì dentro quelli che gli puntano la pistola cioè capito sta pure Nye lì in mezzo penso che lui intervenivano avrebbe detto portate vengo a prenderai no scusa secondo me non era sì poi poi lui poi lui l'aveva visto un tizio strano che stava a dire all'angolino l'aveva visto l'aveva visto ma non è che invece in questo caso Moeca e cosa non sono cioè forse forse non è stata Moeca invece secondo me non è stata Moeca nel senso mi pare strano perché comunque lui FB cioè lui Brown dovrebbe diciamo diciamo tirare le fila di Moeca no forse forse qua lui è diverso che ne so forse non è lo stesso di quella cioè è diverso non lo so comunque hai notato se tu hai letto il manga di Brown eh tu l'hai letto quindi sai cosa sai che lui comunque no io penso comunque sia che il passato non è cambiato cioè io penso che sia lo stesso perché comunque sia fino cioè fino alla morte di Curisi diciamo la linea temporale cioè voglio dire gli avvenimenti penso che siano stati uguali no sì quindi sì cioè è dalla morte di Curisi che diciamo se stanno linea beta perciò io penso che prima della morte di Curisi cioè sia in una linea che in un'altra cioè è uguale la cosa sì allora lui è FB due rounder sia lui che Moeca però c'è un problema c'è un errore c'è un errore Ocarina dovrebbe sapere che lui è FB eh allora in teoria sì eh lo dovrebbe sapere esatto e c'è con diciamo con come si dice con Moeca si è spaventato con Brown no è un errore questo qua secondo me c'è un errore dell'anime perché nel manga nel manga nella visual novel questa cosa non succede in teoria cioè nella visual novel infatti hanno detto strano che cioè nella visual novel lui si spaventa appena vede Nae Brown invece qui no eh è stato un tornere errore è stato un tornere errore dell'anime in questo caso cioè proprio Brown in sé non è che è fatto male qua il problema è che è un po' così come se il personaggio come se volontariamente lo vogliono un po' come se lo vogliono sminuire un po' perché è troppo bello il personaggio allora vogliono sminuirlo un po' sembra cioè nel senso comunque c'è ma comunque secondo me vabbè i sceneggiatori non stanno sceneggiando bene perché vabbè non ovvio perché abbiamo letto il mago perciò sappiamo però cioè c'è c'è un po' non sta in coerenza che è quello che hai detto allora comunque che si spaventa se comunque ti spaventa lo devi spaventare pure con Brown perché è lui che diciamo che la comandava per le piccolette cioè era lui quello che la colpa di tutto sì sì ma proprio la trama di Brown in sé è quello secondo me l'errore di Stan's Gate sta lì non proprio approfondire ma neanche nella prima stagione proprio non approfondire quel personaggio più di tanto perché quelle cose che abbiamo letto nel manga cioè molte nella visual novel sono state dette non è che la visual novel si è uscito non è che il manga si è uscito così cioè erano cose che sono state dette approfonditamente nella visual novel abbastanza approfonditamente poi il manga è l'anima ovviamente l'anima deve sempre cioè almeno l'errore ci deve stare perché se no nessuno si fila più la visual novel che ne so cioè boh che boh cioè per carità finché non vedevo non leggevo la storia di Brown dicevo vabbè chi se ne frega ma ho dovuto l'ho letta cioè è un signor tutta un'altra cosa è un signor personaggio cavolo e dai guarda il resto mi piace tutto questa cosa no si ma poi mi pare una cosa strana allora lui sapeva che cioè lui sapeva che la figlia stava nel laboratorio di Ocarino si e poi aveva visto pure quel tizio strano ma entra dentro e portati via tu via prima che gli assista alla scena dove gli hai puntato una pistola contro cioè lui è sempre più iperprotettivo con la figlia quello che quindi mi pare strano per questo io dico che secondo me è un po' diverso questo Brown che ne so per quello penso sembra che non mi torna non mi torna anche se è diverso però allora prima che lei andava con le ragazze vabbè col gruppetto al santuario cioè il padre ha detto io se non eri impegnato non l'avrei mai lasciata mia figlia e bla 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 poi allora ti trovi davanti cioè non è che si è trovato davanti però ha visto perché l'ha visto quel titolo lì ero all'angolino e sapevi che tua figlia stava pure al laboratorio cioè o non ci ha pensato o non ha preso la cosa però però ha preso il telefonino quindi ha avvisato qualcuno sto fatto che lui ha preso e avvisato qualcuno al telefonino mi ha fatto pensare boh forse lui farà qualcosa per il non lo so c'è un boh non ti so perché comunque cioè io non mi ricordo io non mi ricordo che succeda allora aspetta fammi cambiare una cosa perché me dovrei rivedere quel pezzo dall'altra stagione perché quella parte di Moeca e di cioè dove fanno la di mail dove cancellano la di mail io non me la ricordo bene è un po' un macello perché perché volevo fare un ragionamento ma non lo posso fare così perché nel senso ma Moeca la di mail cioè si sapeva cosa me l'ha scritto mi pare di IBM IBM tipo non mi ricordo una cosa sull'IBM tipo era ah sì tipo che non mi ricordo non mi ricordo la di mail che ha inviato lei però in quei tempi ancora non sapevano che era una rounder queste cose qua cioè lui lui in realtà è sottoricatto lui cioè lui non è che vuole essere cattivo sappiamo è quello il punto quindi dico quindi comunque sì lui è sottoricatto quindi lui è buono in realtà non ha fatto niente cioè lui non vorrebbe fare niente perché sai anche la storia sua come sì sì che diciamo che quando era piccolo cioè se come stava cioè era abbandonato allora cioè l'unica cioè o buono o cattiva si è aggrappato anche a questi qua ecco appunto quindi cioè per questo io dico cioè anche lui alla fine si è pendito cioè dalla parte è pendito però dalla parte cioè si è giustificato se mi l'hai fatto io cioè era l'unica angola di salvezza diciamo ecco cosa intende dire dopo buono o cattiva si deve accontentare appunto cioè era proprio disperato insomma avevo anticipato troppe cose nel manga ah voglio una cosa quel pezzo dove dove Kakari spara oh io ancora non capisco quella scena in teoria allora se Kakari ha sparato lei dovrebbe essere morta invece è viva allora allora perché allora perché ricorda perché ricorda si stanno a confondere guarda per me non c'ha perché comunque era quello che ho capito io fino a ora l'unica cosa che non è uguale alla visual novel cioè fino ad ora l'unica cosa che non si spiegano quelli che hanno visto la visual novel è quel tipo quella precognizione che c'ha avuto Coso Karin ah nella visual novel non succede? no non riesco è pare come se stanno procedendo per una per una certa linea diciamo per un certo finale perché come sai la visual novel c'hanno vari finali bla 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 però che è successo in pratica qui stanno qui fino a un certo punto non si capiva in quale finale volessero intraprendere diciamo invece si è capito dopo di che non te ne doveva buttare a 4 l'hanno capito o dopo la puntata a 5 comunque il resto a me aspetta a me tutte le parti anche tranquille a me a me rilassano cioè vederli comunque uniti è carino poi è il momento che aspetta questa cosa non l'abbiamo detta nelle altre due puntate no del fatto di Kurisu che lui non se la fila più cioè lui proprio non se la fila più niente non si sta a parlare più a Amadeus oggi mi ha sorpreso il fatto che cioè io già lo stavo immaginando allora poco carina che diciamo cominciava i flashback di quello che gli è successo quando hanno passato Kurisu e a Mayu Mayu beh sì beh cioè il fatto che il programma si è chiuso improvvisamente cioè lì mi sono immaginato ok cioè quando si è chiuso il programma e poi quando Karin ha cominciato a messire sicuramente sta succedendo succederà qualcosa sicuro ci scommetto oh non faccio andiamo a pensarlo a dirlo ci siete mancati la catastrofe inizia portacci vostri è troppo presto aiuto cioè già 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 cominciano le catastrofi ah una cosa una cosa cagare quanto mi piace a me come personaggio non lo so non è cioè per me non c'è niente cioè è un guscio vuoto giustamente cioè non c'è soltanto il suo nome non c'è nient'altro che di se stessa però quanto mi piace come personaggio non lo so visto il fatto che si cerca cerca di cerca di inserirsi sì mi piace troppo carina il personaggio è inventato subito all'inizio no sembrava un po' più strana no strana magari triste malingone un po' boda no adesso invece sembra più cioè si sta riprende oggi ho avuto una conferma che a maiori gli piace ocarina proprio con un fermo affigiale cioè dai visto come se ne andava cioè quando eh no perché praticamente stava con cagare no cioè quella scena che che diciamo ocarina ha detto che stava bene e lei e meno male e poi stava cagare gli ha detto io ho cercato di dirlo molte volte però non ci credeva eh sì perché non era convinta eh perché voleva far bella impressione a lui ocarina sì però lei ha un modo strano cioè lei non vuole dimostrare non vuole mostrare che è innamorata di lui come se non lo vuole mostrare lei eh non lo vuole mostrare proprio e poi lo nasconde beh cioè un po' si vede però voglio dire è la grande lo nasconde io è proprio cioè fa la fredda la fredda con se stessa fa non lo so non so come dite è strana però guarda comunque ci ha fatto caso il pezzo dove tipo dall'inizio tipo lei stava a parlare con Luca cioè sono usciti diciamo perché dovevano parlare su Zua e Ocarin con Kagari no per capire che è successo perché ha perso la memoria lei se ne è andata cosa ma io se ne è andata senza guardare voltando le spalle Eurushibara hai visto? l'ha fatto un po' la gelosia sì ma a me dispiace troppo per quel personale cioè guarda se muore qualcuno ma in cavolo non deve morire nessuno perché poi è un casino come fai? se muore non basta non lo so basta ma Iuri che a parte non credo che l'ammazzano perché voglio dire quando cioè perché poi adotterà pure la figlia voglio dire il futuro è già scritto quindi lei vive che poi io le sto domandando ma ma la ma la Kagari che cioè quelle che stiamo vedendo no? che fine farà? eh che ne so non si sa cioè perché poi tra un po' di tempo ce ne sarà un'altra cioè quella piccola eh calcola quella c'ha 10 quella c'ha 10 anni cioè il 2036 c'ha 10 anni quindi nel 2026 nasce quella ragazzina senti comunque l'Iskner Alexis Cosoli e Reyes c'entrano l'hai visto che occhiatascia ha fatto lei? la professoressa l'ha fatto quello che si lo stavo oh ci stavo pensando proprio adesso mi ha anticipato quella infame infatti quella lì non mi è piaciuta non mi è piaciuta per niente oh no senti ma lei che questi qua fanno tutti parte del CERN cioè questa cosa mi ha confuso non c'è come sta a fare non c'è ci stanno a bombardare roba eh 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 mille dubbi ci sta in storia mi ha detto alcuni dubbi cioè allora ci sta il dubbio su quella voce che eh eh la prima stagione era più semplice eh non vuoi dire niente cioè comunque cioè vabbè bellissima scena dove tutti quanti si riuniscono intorno a Amadeus la parlai si una scena nostalgica è carinissima questa roba si lui ovviamente che c'ha quel flashback che che fosse cellulare gira lei spiegava hai visto Daru cioè cosa là come si chiama mamma mia no quella scena dai Daru ma io non ho capito però la cosa cioè non ho capito il senso di quella battuta diciamo battuta ha detto non ho capito ma io non capisco niente delle battute che fa aspetta Roma fatturire Roma fatturire quella scena dove praticamente cioè quelle gag tra lui e Suzua e Suzua e Colomena ti immaginavi se non gli avrebbe detto che erano fratelli e li scippava no avrebbe stato imbarazzante come me che non so lì presente c'è una mamma che scippa padre e figlia è è proprio una cosa strana non dai ha o lì Grazie per la visione!